Marche in zona arancione si rianima il commercio Domani dagli asili alle medie si torna sui banchi, superiori al 50% Controlli di Pasqua, 103 multe in tre giorni Morto Italino Mulattani, addio ad uno dei più grandi costruttori edili di Pesaro Una buona serata a tutti voi telespettatori di Rossini TV Che ci seguite sulle canali 633 delle Digitale Terrestre Ben ritrovati al nostro appuntamento serale con Rossini News Il nostro telegiornale di oggi, martedì 6 aprile Giornata che segna il ritorno delle marche in zona arancione Ed è proprio con questo argomento che apriamo il nostro Tg Una giornata importante perché dal commercio ai servizi alla persona Oggi diverse categorie lavorative sono tornate a respirare dopo tre settimane di zona rossa Vediamo il servizio Martedì 6 aprile le marche tornano zona arancione E nello specifico di Pesaro Urbino la provincia esce da quella zona rossa in cui era entrata lo scorso 10 marzo Questo significa che tante delle categorie del commercio e dei servizi ritenuti non di prima necessità Bloccati finora possono tornare ora a lavorare dopo essere stati fermi per quasi un mese dalle restrizioni da zona rossa Dopo essere spesso scesi in piazza per protestare Tornano a lavorare oggi anche gli ambulanti Questo è il mercato cittadino pesarese del San Decenzo Con l'entrata in vigore della zona arancione Che coincide proprio con il martedì settimanale del mercato Un martedì non aiutato dalla pioggia ma che comunque lascia intravedere spiragli di ottimismo Per quello che sono gli ambulanti e ritorno finalmente all'attività lavorativa Finalmente siamo stati fermi fin diciamo tra virgolette troppo tempo perché non ce la facevamo più Aiuti pochissimi però come si può vedere qui nel mercato c'è pochissima gente Siamo contenti che siamo tornati a fare il nostro lavoro Siamo riusciti a tornare e dai primi di marzo che eravamo fermi Cominciava a diventare un po' una situazione quasi insostenibile perché le spese c'erano comunque Le tasse c'erano comunque e quindi non riuscivamo neanche noi a capire perché non potevamo venire a lavorare Visto che lavoriamo anche tra l'altro all'aperto Zona arancione significa che da oggi tornano a essere aperti tutti i negozi Non solo quelli ritenuti essenziali che potevano rimanere aperti in zona rossa Ma dall'abbigliamento alle gioiellerie Tante attività che oggi hanno cominciato a rialzare le serrande Non tantissimi clienti non aiutati dalla giornata piovosa Ma un finalmente all'unisono raccontato da tanti commercianti che abbiamo potuto sentire È stata penalizzata tantissimo perché è dall'anno scorso che andiamo avanti con queste chiusure Per noi riaprire, chiudere, riaprire Il cliente non è abituato, è come un interruttore Purtroppo siamo quelli più penalizzati insieme ai ristoratori Speriamo che questo sia un buon inizio per tutti Noi tendiamo tutti i nostri clienti nei nostri punti vendita Che sono completamente sanificati Con la distanza giusta, insomma, con tutte le norme che bisogna seguire Speriamo in una bella ripresa Perché comunque forse i nostri cittadini hanno potuto vedere Che con i negozi chiusi il centro non è la stessa cosa Finalmente riapriamo con tutta la nuova collezione Primavera e estate Speriamo di tornare gialli perché c'è anche più movimento Come è stata questa prima mattinata dal punto di vista della clientela? Qualcuno già stanno chiamando, qualcuno entra Vedono la nuova collezione e speriamo bene Noi siamo super positivi E hanno riaperto anche parrucchieri, barbieri e centri estetici Insomma, servizi alla persona che dopo quasi un mese di chiusura Lavoreranno non stop per i tanti appuntamenti arretrati Sì dai, diciamo che abbiamo per fortuna il nostro bel da fare Ce la metteremo tutta a stare innanzitutto alle regole In modo che potremo lavorare serenamente E finalmente siamo tornati alla nostra vita E dopo il ritorno in zona arancione Che allenta i limiti imposti a molte attività lavorative Domani sarà il giorno del ritorno a scuola Ritorno sui banchi per le scuole che vanno dalle fasce inferiori Dagli asili fino alle medie Al 50% alle superiori Ma vediamo nel dettaglio i criteri nel nostro prossimo servizio Dopo quasi un mese si torna sui banchi di scuola Il 10 marzo scorso l'entrata in vigore della zona rossa Nelle province di Pesaro Urbino e Fermo Poi allargata l'intera regione Aveva chiuso anche asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole medie Un provvedimento di chiusura che per gli istituti inferiori Non si palesava dal lockdown del 2020 Domani, mercoledì 7 aprile, si ricomincia Tutti a scuola fino alla terza media Un provvedimento che il governo Draghi avrebbe preso A prescindere dal ritorno nelle marche in zona arancione Che però diventa un lascia passare Anche al ritorno sui banchi delle scuole superiori Qui si riprende il 50% delle scuole in presenza Con l'altra metà che rimane in didattica a distanza Ogni scuola superiore manterrà la facoltà di gestire questo dimezzamento C'è chi conserverà le classi intere Convocando però alternativamente metà istituto Chi dimezza le classi presenti in aula Un ritorno sui banchi che il giorno dopo sarà supportato Dal terzo screening nelle scuole organizzato dal comune di Pesaro Questa volta i tamponi si concentreranno nelle scuole medie Saranno circa 840 gli alunni di prima media Delle 8 scuole della città che si sottoporranno al test rapido In base ai consensi dei genitori Il comune è pronto ad allargare i test Anche ai giorni successivi e alle restanti classi delle scuole medie E ci siamo lasciati alle spalle Un weekend di Pasqua e Pasquetta in zona rossa Che ha registrato 103 multe complessive Tra le giornate di sabato, domenica e lunedì Giornate in cui si sono intensificati i controlli di polizia Già preannunciati dalla prefettura 103 multe su 2093 persone fermate Con il massimo di ammende Cioè 43 e di controlli 920 nel giorno di Pasquetta La maggior parte delle sanzioni e divieti di spostamento Sono arrivate nei controlli a piedi Poche invece le multe agli automobilisti Dimostrati si più ligia le regole Nelle tre giornate sono state inoltre controllate 593 attività commerciali Con la contestazione di tre illeciti E la conseguente chiusura degli esercizi E intanto con i 10 morti registrati Si ieri si sono superati i 2700 decessi Nelle Marche da inizio pandemia E soprattutto non smettono di essere preoccupanti I dati sui ricoveri risaliti a 924 nelle Marche Dopo un paio di giornate in cui erano scesi sotto quota 900 Alta la pressione sulle terapie intensive Con 141 posti letto occupati in regione I dati relativi ai contagi sono invece reduci Da una giornata interlocutoria Come quella di Pasquetta In cui si sono effettuati pochi tamponi Solo 844 di cui 317 nel percorso nuove diagnosi I nuovi positivi sono 66 di cui 10 nella provincia di Pesaro e Urbino La città di Pesaro e la vicina Romagna Perdono uno dei più noti e intraprendenti costruttori edili Dopo un periodo di malattia infatti morto a 86 anni Italino Mulazzani Vediamo il servizio che lo ricorda Le sue grandi opere edilizie dagli anni 70 in avanti Hanno contribuito all'amodernamento urbano della città di Pesaro Una città nella quale Italino Mulazzani è morto nel weekend di Pasqua Il noto costruttore edile aveva 86 anni Ed è venuto a mancare all'ospedale San Salvatore di Pesaro Dove era ricoverato affetto da gravi patologie cardiache All'interno di un quadro clinico preoccupante Che nei giorni scorsi aveva persino portato alla voce incontrollata E prontamente censurata di una sua prematura di partita Questa volta Mulazzani se n'è andato per davvero Aveva contratto il Covid-19 nonostante fosse in attesa del richiamo del vaccino Dopo la prima dose che gli era stata somministrata il 25 febbraio Non è ancora stata fissata la data del funerale Ma si sa già che si terrà a Monte Gridolfo Paese natale di Mulazzani e di parte della sua famiglia Italino lascia la moglierina e i figli Fabio e Orietta E lascia un'eredità edilizia che ha cambiato il volto di Pesaro Ed è la vicina Romagna Nei decenni Mulazzani è stato protagonista della trasformazione della città di Pesaro Dal quartiere della Torraccia dove realizzò l'allora Bipia Palace Oggi Vitrifrigo Arena Ma anche lì per Rossini, il vicino cinema multisala o lo stabile del lobby Opere che hanno cambiato la città come il nuovo Tribunale Al Carducci O la struttura alberghiera dell'hotel Flaminio Poi diventato Baia Flaminia Resort Ma anche tantissime strutture residenziali Da Via Mameli alle più recenti torri di Largo Ascoli Piceno in zona Tombaccia Ha cambiato anche il volto di Rimini con la realizzazione del centro commerciale Le Befane O del palasport cittadino oggi rinominato RDS Stadium A Riccione si ricorda il suo ex hotel Esmeraldo di Viale Ceccarini E a Cattolica la struttura in cui sorge la celebre pasticceria Staccoli Amante di sport, Mulazzani nel 1984 fondò la bocciofila Monte Gridolfo Con cui vinse pure lo scudetto nel 2010 e in cui era tuttora presidente onorario Un cinquantenne operaio di Vallefoglie è stato arrestato per spaccio di droga Dalla squadra mobile della polizia di Pesaro Curiosamente proprio nel giorno del suo compleanno L'uomo è stato fermato a bordo del suo scooter dopo un appostamento E dopo aver allargato la perquisizione alla vicina abitazione Gli agenti hanno trovato all'interno di un forno microonde e sotto un tavolo Ben 67 grammi di cocaina e 120 grammi di hashish Tutto questo oltre a 500 euro in contanti ritenuti provento di attività di spaccio Attività che è stata documentata pure da tutte le attrezzature del caso trovate nella sua abitazione Nella giornata di Pasquetta sono invece state trovate alcune polpette avvelenate Un parco che è stato transennato dal reparto forestale dei carabinieri Dopo il ritrovamento dei bocconi di carni nocive E dopo che una cagnolina ne aveva addentato uno Salvandosi solo per il tempestivo trasporto dal medico veterinario Si cercano ora i colpevoli di questo gesto barbaro e incivile Anche usufruendo del vicino sistema di videosorveglianza Ed è stata approvata in giunta regionale una delibera proposta dal vicepresidente Mirco Carloni Per sostenere una nuova forma di turismo legato alla pesca E rivolto ai suoi imprenditori Che finalmente potranno fare accoglienza e somministrazione L'intiturismo è infatti un'attività che comprende l'insieme dei servizi turistici Offerti dai pescatori sulla terraferma Come l'ospitalità in case di pescatore e in borghi marinari Oltre a questo c'è anche la ristorazione base di pescato locale Possibilmente a cura degli stessi pescatori all'interno delle loro comunità Ed ora come in ogni nostro Tg il vostro spazio dedicato alle segnalazioni Che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero whatsapp dedicato 370-366-7210 Nello specifico il nostro telespettatore ci ha inviato oggi alcune foto Attraverso le quali invita le autorità competenti A trovare qualche accorgimento per via Mondini Il collegamento fra la zona Torraccia e zona Vismara Di una strada ritenuta pericolosa per pedoni e biciclette Dissuasori di velocità o dossi vengono sollecitati Anche per la non lontana vecchia strada Fornace e Mancini Dove le macchine sfrecciano a gran velocità In una via dove spesso si radunano bambini A giocare a due passi dalla strada E dopo una Pasqua e una Pasquetta di tempo splendido Questa giornata di martedì sta purtroppo facendo da apripista A un clima molto diverso che si prospetta nei prossimi giorni Già oggi infatti si sono registrate tante precipitazioni Ed è atteso un brusco calo di temperature Che saranno prossime allo zero nei prossimi giorni Come dicevamo questa è stata una giornata caratterizzata da precipitazioni continue Tanta pioggia sulla costa che è diventata anche neve nell'entroterra Neve fuori stagione ad aprile E infatti i video e le foto che vi mostriamo Segnalate da voi telespettatori Si riferiscono alla zona di Valle Foglie In particolare a Colbordolo E alla città di Urbino Dove il nevischio è tornato ad aprile Ad imbiancare anche la città e il suo centro storico E nonostante siamo ancora in pieno periodo pandemico In tema di turismo si comincia a ragionare sulla ripartenza estiva Col turismo tradizionale ma anche con nuove formule d'accoglienza Infatti poco fa vi abbiamo parlato dell'iti turismo promosso dalla regione Marche E un altro filone che si vuole sviluppare è quello del cosiddetto moto turismo Un modo di unire le bellezze paesaggistiche con quelle della vocazione motoristica del nostro territorio Ne abbiamo infatti parlato con il consigliere regionale Andrea Biancani Che ha avanzato una proposta di legge in tal senso Ovviamente siamo in un periodo di pandemia Dove può sembrare quasi assurdo presentare una legge di questo tipo Invece ho ritenuto importante in cominciare a pensare anche alla ripresa al futuro Il turismo sarà sicuramente una delle grandi opportunità Che come regione Marche dovremmo promuovere e valorizzare Siccome noi siamo a terra di privati di motori Avevo già fatto una legge nel corso del 2017 Che aveva questo obiettivo Questa nuova legge ha l'obiettivo di individuare Sia le figure come gli accompagnatori moto turistici Che saranno quelle figure che sapranno raccontare il nostro territorio E accompagnare le tante persone che decidono di fare un viaggio Di farle in moto Ma quindi nelle Marche avranno prima regione in Italia Delle figure degli accompagnatori In grado di poter raccontare tutte quelle che sono le bellezze Che noi abbiamo Dall'altro punto di vista invece riuscire all'interno del piano di promozione turistica Individuare tutta una serie di itinerari Che appunto questi moto turisti Questi appassionati di moto Potranno fare nel nostro territorio regionale Noi siamo una regione di piloti Una regione di motori Importantissimi ricordo il ruolo di Tavuglia e di Pesero Come ad esempio Sia per quelli che sono i piloti attualmente A livello internazionale Ma anche e soprattutto per quello che vale Il museo Benelli che abbiamo nella città di Pesero E il futuro museo Morbidelli Che sarà uno dei musei più importanti a livello internazionale Ed ora allo sport Perché è stata una Pasqua molto diversa per lo sport pesarese In particolare per la VL e la Vispesero Nel basket è arrivata sabato la quinta sconfitta consecutiva Nel calcio una vittoria forse decisiva Per l'obiettivo salvezza della Vispesero È stata una Pasqua dai sentimenti contrastanti per lo sport pesarese Di amarezza e frustrazione Quella della Carpegna Prosciutto Basket Pesero Che con la De Lunghi Treviso è incappata sabato Nella quinta sconfitta consecutiva Di gioia e gratificazione quella della Vispesero Che nella stessa giornata ha battuto Limolese Spiccando un balzo in avanti Forse decisivo nella lotta salvezza Lotta salvezza che si fa più complicata Per la VL che alla Vitri Frigorena Ha perso 89-97 con Treviso Pesante l'assenza di Justin Robinson Risultato positivo al Covid-19 Ancora più pesante la condotta arbitrale Che ha mandato su tutte le fure Coach Repesia allontanato per fallo tecnico Che ha lasciato ai dirigenti Cioppi e Amadori Ogni commento post partita Come da regolamento l'arbitro ha chiesto al coach Se voleva la rimessa nella metà campo difensiva Nella metà campo offensiva Il coach gli ha detto ma secondo te dove la voglio la rimessa Sono meno 6, mancano 34 secondi alla fine Se non sbaglio mi prendi in giro dove vuoi che la voglia la rimessa E l'arbitro gli ha detto dove vuoi la rimessa Nella metà campo offensiva o nella metà campo difensiva Il coach gli ha detto in attacco L'arbitro ha risposto grazie Il coach ha risposto prego E ha preso il secondo tecnico Chiaramente questa è una mancanza di rispetto mostruosa Nei confronti di qualsiasi tesserato che scende in campo Un atto di prepotenza da parte di chi conduce col fischietto la partita Contro qualsiasi tesserato sarebbe questo Poi nei confronti di una figura, di un allenatore importante come Repesa E corretto come Repesa Perché non escono mai parole di offesa O nei confronti di nessuno da parte del coach Ed è un anno che sono al suo fianco quotidianamente Credo che sia molto molto grave Ci sono due cose Una che è una partita ben arbitrata E quando l'arbitro non si vede E qui purtroppo Questa sera si sono visti solamente gli arbitri È una cosa veramente incresciosa Poi faremo noi le telefonate E quello che dobbiamo fare come società Però questa è una cosa veramente incresciosa Perché l'atteggiamento di un arbitro in particolare E sapete bene chi È veramente destabilizzante Anche per chi si impegna tutta la settimana Tutto l'anno Per far sì che le cose funzionino bene Qui nessuno ha mai offeso un arbitro E quindi non è ammissibile Che l'arbitro si giri verso il pubblico Sfidando il pubblico Guardandolo Questo è destabilizzante Non è corretto È una cosa che non è accettabile Ora la VL proverà a rifarsi in casa della fortitudo Mentre nel calcio La Vispesero può avere un insperato match point Salvezza anticipato Domenica prossima ad Arezzo Questo perché la vittoria 2-1 con l'Imolese di sabato Ha spinto la Vis a 6 punti di vantaggio Sulla zona retrocessione Un tesoretto da difendere nelle quattro giornate restanti Decisiva la doppietta di Gucci In un 2-1 perfino stretto Per la condotta dominante Che la Vis ha avuto sul Limolese Bersagliata di tiri per tutta la partita Da un po' di tempo a questa parte Stiamo facendo veramente dei grandi risultati E il merio è tutto dei ragazzi Che sono veramente un grande gruppo Che ha capito dove dovevamo andare Ci stanno portando appunto all'obiettivo prefissato L'obiettivo è lì a portata in mano adesso E non ce l'avamo fa sfuggire Troppe volte abbiamo fallito la partita da non fallire Questa invece l'abbiamo voluta con tutte le nostre forze Giocando un buon calcio Creando tanti sforzi Se è l'unico rammarico Dovamo chiuderla prima per non soffrire Fino alla fine Però a questi ragazzi Va fatto solo un grandissimo applauso Perché ha dimostrato Di essere una grande squadra E non abbiamo ancora fatto nulla Quindi per noi la partita di domenica Diventa fondamentale Altrimenti il risultato che abbiamo fatto oggi Va a morire Assolutamente Noi dobbiamo andare appunto ad Arezzo Per fare la nostra gara Andremo a Arezzo a cercare di fare la nostra partita E di prendere i tre punti Che vorrebbero dire Sì o no Non solo matematica Però di salvezza Sei punti dietro la vis Ci sono Legnago E il Fano Che si tiene viva una fiammella di speranza Di riagganciare la salvezza Grazie alla bella vittoria In casa della quotata Feralpi-Salò Un 2-1 siglato da Valò e Ferrara Che conferma la crescita a Granata Con mister Tacchinardi in panchina Nel calcio A5 è stato rinviato Il big match dell'Ital Service Contro l'Acqua e Sapone Per i 5 casi di positività al Covid-19 Emersi nella squadra pesarese Intanto l'Ital Service Ha conosciuto l'accoppiamento Delle finale di Coppa Italia L'avversario sarà la Color Max Pescara Da affrontare in gara secca Giovedì 22 aprile all'RDS Stadium di Rimini E con le notizie sportive Si chiude questa nostra edizione Delle telegiornale Prima di salutarci però Vi ricordiamo alcuni appuntamenti A cominciare dalla nostra prima serata Che comincia alle 21.15 Con Jokart Il nostro programma dedicato ai più piccoli Ed è invece dedicato Alla scena musicale pesarese Spazio Web Live Programma che inizia questa sera Con la sua prima puntata alle 22.15 In un format condotto Da Michele Panzieri e Topazio Perlini Che va ad approfondire La scena musicale pesarese Con i suoi talenti In particolare questa prima puntata È dedicata a Damiano Simoncini Levi Vi ricordiamo dunque Spazio Web Live Tutti i martedì Ma anche il giovedì Dove avrete già questo giovedì La seconda puntata Mentre il sabato Tutte e due le puntate Del martedì e del giovedì Si potranno rivedere alle 21.00 Ricordiamo anche che torna a casa Rossini Dopo un periodo di pausa In cui vi abbiamo tenuto compagnia Con le repliche del salotto di Paolo Pagnini Tornano gli ospiti in diretta di casa Rossini Domani mercoledì 7 aprile Con la diretta alle 10.00 Ecco quelli che sono gli ospiti di domani Saranno la direttrice del giardino Di Santa Maria Beatrice Pantanelli E Giacomo Mattioli Presidente regionale del CSI E dopo avervi mostrato la prima serata E l'appuntamento di domani con casa Rossini È arrivato il momento dei saluti Da parte mia e di tutta la redazione di Rossini TV Il più cordiale saluto E un buon proseguimento di serata Con i programmi di Rossini TV Il più cordiale saluto